Con Luca Albertini, la partita con la dell'Ese è una buona partita adesso, la parte nostra. Sì, sicuramente la condizione migliora, migliora anche il gioco. Adesso ovviamente non siamo ancora al massimo, però già cominciamo a ingranare bene. Oggi faceva un caldo? Sì, oggi c'è ancora un caldo che ti impediva di essere brillante nei momenti giusti. Noi ci abbiamo messo di tutto, poi ovviamente quando saremo più in una forma maggiore saremo anche meno. Ma come dici, torna in campo con il Villanteri o chi ha vinto tra l'altro con la Gianna? Eh, la Gianna non conosciamo le qualità dell'avversario, però sicuramente con il fatto che comunque si giocherà di sera, sarà anche un altro tipo di partita. Noi diamo il campo con la voglia di battere questo Villanteri, poi si vedrà. Il campo parlerà. Grazie mille a Luca Albertini. Grazie mille.